Dopo quattro vittorie consecutive, la Torrese si ferma con un pareggio che sta di beffa, mentre il Nereto ottiene un punto d'oro dopo la sconfitta contro l'Alba Triatica. Allo stadio comunale di Castelnuovo Mano fischia la signora Claudia di Sant'Emarolli. Due occasioni al primo minuto per la Torrese. Prima con Kruger che cerca il pallo lontano con la palla che finisce sopra la traversa, poi con Torbidone che De Vilato manda alto. Al sedicesimo la Torrese protesta per un fallo in area su Chiacchiarelli, non fischiato. Al ventunesimo Chiacchiarelli in area, prova, ma Di Giuseppe vola e nega il vantaggio alla Torrese. Al trentaduesimo Antonacci va contro Bruno che gli dice di no. Al trentasettesimo ghiotta occasione per la scuola di De Feudis con Antonacci che dopo un corner interviene. Va Bruno attento, salva sulla linea di porta e si va a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con un tiro debole di Antonacci che finisce a lato. Ci prova Calderaro dalla distanza, ma la palla finisce tra le braccia di Bruno. Al venticinquesimo arriva il gol della Torrese. Nella mischia Ferri la mette dentro. Al ventisettesimo prova a rispondere Calderaro, ma il suo tiro termina di poco alto. Al trentasesimo Chiacchiarelli sfiora la rete, direttamente da calcio di punizione. Sempre Chiacchiarelli. Al trentanovesimo va solo contro Di Giuseppe, ma il portiere gli dice di no. Al quarantasettesimo incursione in area di Puglia, ma Di Giuseppe è attento. Al quarantanovesimo arriva la beffa per la Torrese. Lazzarini insacca un pallone vacante in area e fa 1-1. Con l'allenatore in seconda del Nereto. C'è un pareggio arrivato all'ultimo minuto. Un buon pareggio per la sua squadra. Sì, questo è un pareggio che per noi sa di vittoria perché abbiamo navigato in difficoltà veramente importanti. E questa è una vittoria per il gruppo, per tutti quanti, per tutto l'ambiente perché non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo respiro e quindi è un risultato importantissimo per noi, per l'ambiente, per tutti. Dopo quattro vittorie consecutive è arrivato questo pareggio che è stato in beffa. Anche nell'unica partita non vinta in casa. Cosa può rimproverare ai suoi? Non abbiamo fatto sicuramente la nostra miglior partita. Siamo arrivati a questa domenica con una settimana un po' particolare. Non mi era piaciuto come ci siamo arrivati. ci può stare a abbassare un pochino l'attenzione. Dispiace averlo fatto in una partita così importante. Sapevamo delle insidie che nascondeva questa gara. Avevo predicato attenzione perché sapevo che il Nereto sarebbe venuto qui a fare una partita all'ultimo respiro perché comunque avevano anche tante defezioni. Venivano a giocare senza troppe pressioni e alla fine il risultato credo sia anche giusto.